Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. La copertina del nostro telegiornale oggi è dedicata all'apertura della Porta Santa alla casa circondariale di Contrada Balate a Gela. La misericordia che è il tema del giubileo in corso arriva anche per chi sta vivendo la privazione della libertà e sta saldando il suo debito con la collettività. Vediamo. Si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche all'interno delle carceri nell'occasione di questo straordinario e rivoluzionario giubileo della misericordia. E con la misericordia infinita del Signore questa mattina il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la Porta Santa della casa circondariale di Contrada Balate. Queste porte di misericordia così come ha voluto il Papa nell'anno del giubileo proprio dedicato alla misericordia bisogna effettivamente che vengano aperte in contesti dove la misericordia si esprime in un direi modo molto eclatante, vistoso. E qui proprio come anche negli ospedali o in quei contesti dove si vive una condizione di bisogno, la Porta Santa, la Porta della misericordia diventa davvero questa porta che se attraversata noi non solo acquisiamo quelle indulgenze ma addirittura esprimiamo quello che il Signore vorrebbe da noi. Non voglio sacrificio d'olocausti ma voglio amore, conoscenza, misericordia ed è quello che effettivamente vogliamo fare in questa occasione. D'altra parte io sono dell'avviso che la Porta Santa non è una porta in se stessa. Gesù già lo dice nel Vangelo io sono la porta per cui dato che in Gesù noi riscontriamo, conosciamo i piccoli, tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me, allora io capisco che se Gesù è la porta lo sono soprattutto i piccoli, i bisognosi, i malati, i carcerati e vi è dicendo loro sono le porte sante. Quindi non una porta nel senso fisico ma nella metafora biblica sono le persone, le esistenze, i vissuti di quanti vivono un bisogno che nella misura in cui vengono accolti, vengono aiutati, vengono sostenuti noi attraversiamo la Porta Santa. Un momento di speranza, un momento di comunione per tutti noi, sia i detenuti che vivono questo loro momento di rigidità e di sicurezza e di ovviamente sconto della loro pena per quello che hanno fatto, sia per tutto il personale che è comunque impegnato nella garanzia della sicurezza e nel rispetto della dignità della persona. La maggior ragione è in questo momento storico in cui siamo tutti, come dire, prese dalla frenesia di questi giorni e soprattutto forse coinvolti in quello che sta accadendo sia da un punto di vista dei fenomeni migratori, sia da un punto di vista dei fenomeni della devianza. Hanno voluto far sentire la loro voce anche in occasione della Messa di Natale gli ex lavoratori che sperano di poter essere integrati nella loro occupazione alla Clinica Santa Barbara di Gela. Vediamo. Si sono presentati alla Santa Messa Natalizia e hanno significamente preso posto tra le ultime file. Sono i nove ormai ex lavoratori della Clinica Santa Barbara di Gela che rivendicano a gran voce la loro occupazione. Il sindacato sta facendo quello che è nelle proprie possibilità. Intanto è stato audito dalla sesta commissione e in sesta commissione Cigelle e Cisle con i lavoratori presenti ritengono di avere ottenuto un buon risultato, cioè lo spiraglio per riaprire questa trattativa. In quanto davanti al Presidente Onorevole Di Giacomo anche l'imprenditore di questa clinica privata si è impegnato a trovare una soluzione perché la cosa potesse tornare indietro, perché questi lavoratori potessero tornare al loro posto di lavoro. Noi oggi siamo qui e siamo venuti a messa come tutti gli altri lavoratori perché ci riteniamo ancora lavoratori di questa clinica. Però se lei ha visto ci siamo messi tra gli ultimi perché noi riteniamo di essere tra gli ultimi. E il Cristo ha avuto sempre un occhio particolare per gli ultimi e noi a lui ci rivolgiamo. Sicuramente ha avuto un occhio particolare per gli ultimi e non per i primi. Tra i primi c'erano gli imprenditori. Sono gli imprenditori che debbono fare un passo avanti verso questi lavoratori, verso queste nuove famiglie che sono rimaste fuori, che sono in mezzo a una strada. Ma non esimiamo da questo il sindaco di Gela, il nuovo sindaco di Gela a cui dobbiamo dare merito e atto che era con noi in sesta commissione ma che dopo di che non l'abbiamo più visto. E al governatore che è cittadino di questa città. Infatti chiediamo al sindaco, al governatore e al presidente di questa casa, di questa clinica Santa Barbara di riunirci anche durante le feste. Noi siamo pronti a venire qui anche per Natale, per Santo Stefano, per il 27, per il 28, per concludere questa vicenda che non può concludersi con il licenziamento di nove padri di famiglia che da 30 anni svolgono la loro attività presso questo ende e vengono sostituiti da una società terza. Bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile, lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12.30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale per informazioni 0933 90 11 34. La Procivis di Gela ha sette nuovi soccorritori di livello avanzato. Il brevetto è stato conseguito da Alessandro Pistritto, Vincenza Lupo, Katia Tuccio, Salvatore Pistritto, Antonio Maria Smecca, Salvatore Legname, Giuseppe Arigio. Le prove si sono tenute a termini imerese alle sessioni d'esame. Oltre ai formatori hanno partecipato anche i medici, gli infermieri della centrale operativa del 118 e il DASOE della regione siciliana Assessorato alla Salute, in modo tale da garantire il rispetto degli standard previsti dai protocolli di intervento regionali. Contestualmente si sono svolti negli stessi locali gli esami del corso di livello avanzato organizzato dal centro di formazione per operatori addetti al soccorso 118 eccedenze. Formatori Procivis assieme al suo responsabile Luca Cattuti hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al corso assiduamente. I prossimi corsi organizzati dal centro di formazione Procivis a febbraio. Lo straordinario deve diventare ordinario, sono le parole dell'assessore Nuccio Di Paola a proposito della manutenzione degli spazi verdi con specifico riferimento alle aree delle scuole. Sentiamo. Assessore, è cominciata in maniera sistematica la pulizia delle aree di pertinenza delle scuole? Sì, stiamo facendo il possibile sia come settore lavori pubblici, perché il verde da un mese a questa parte è passato come servizio ai lavori pubblici, che come comune in generale. So quali sono le difficoltà. In molti mi fanno segnalazioni perché comunque non si riesce a coprire tutto il territorio e non si riesce in tempistiche adeguate a curare il verde di tutta la nostra città. Ma vi posso assicurare che stiamo cercando di fare il massimo per questa fine anno e ci stiamo organizzando al meglio e con la GELAS e con i lavori del reddito minimo di inserimento e vedremo nel 2016 di ampliare ancora di più questa forza lavoro. Abbiamo iniziato con le scuole, abbiamo cercato di fare il massimo con le scuole, perché lì c'è il futuro della nostra città. Ci sono bambini, adolescenti ed è giusto che quelle aree devono essere, almeno per quanto riguarda il verde, non solo le più pulite e le più curate. Dopodiché ci stiamo spostando in tutta la città a partire sia dal centro storico che nei quartieri periferici. La pulizia potrebbe diventare un'operazione ordinaria? Finalmente GERA potrà avere delle aree verdi pulite e manutenzionate? Deve diventare un'operazione ordinaria. Dobbiamo cercare di tralasciare lo straordinario, ma per tralasciare lo straordinario bisogna che tutte le forze all'interno del comune, ma soprattutto tutte quelle forze che si occupano del verde, agiscono in modo consapevole e in modo programmatico. Questo cercheremo di farlo fin dal 2016. Ecco perché per dare maggiore forza e spinta alla pulizia del verde della nostra città abbiamo inserito un intervento all'interno del piano triennale che si andrà ad accostare agli interventi che farà la GERAS. La Casa del Volontariato ospiterà per la prima volta uno spettacolo teatrale per bambini e lo farà in collaborazione con i professionisti del teatro per l'infanzia. Ansel, Gretel e Il Segreto della Strega sarà rappresentato lunedì 28 dicembre prossimo alle 17.30 presso la Casa del Volontariato di Gela. L'obiettivo è quello di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie. Il progetto teatrale è di Nave Argo, lo spettacolo organizzato utilizzando le tecniche del teatro d'attore unite ad un originale uso delle musiche e di alcuni elementi del teatro di figura propone una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e rapporto con le persone anziane. In scena ci saranno Emiliano Longo e Iridiana Petrone, anche autrice dei testi e regista dello spettacolo. Le musiche originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. Una mostra tutta al femminile è stata inaugurata ieri al Museo archeologico regionale di Gela su iniziativa della Soroptimist Club. C'eravamo anche noi, vediamo. Parla al femminile la mostra che è stata allestita al Museo archeologico regionale su iniziativa del Soroptimist Club di Gela, presieduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Infinitamente donna racconta lo status della donna nell'antica Grecia. Sono stati esposti i reperti archeologici esclusivamente al femminile, monili e statue catalogate dall'archeologo gelese. Abbiamo pensato di organizzare questa mostra insieme al museo, il direttore e l'archeologo Angelo Mondo per valorizzare ancora di più la figura della donna, partendo proprio dall'antica Grecia, dalla Grecia arcaica, poi la Grecia classica e la Grecia ellenistica. Il fine appunto è quello di mettere sempre in evidenza e luce la donna, la donna che rimane appunto sempre tale, vogliamo che sia sempre al centro, al centro della società. Ho iniziato la descrizione anche del Forex con una frase che è veramente agghiacciante. teniamo le docce, teniamo le etere, quindi le prostitute per il piacere della carne, le concubine per il piacere del nostro corpo e le mogli per la procreazione, quindi la cura della casa e del corredo. Quindi già tutto questo racchiude il senso della donna. C'è da dire una cosa, tutte le personalità che hanno scritto sulla donna erano solamente uomini, quindi è chiaro che il punto di vista era solamente unilaterale. Però abbiamo protagonisti nel mondo antico di donne che hanno avuto un loro peso nella storia, da Spazia, la compagna di Pericle, Ipazia, una grande scienziata dell'età ellenistica e Saffo nella letteratura. Però in un certo qual modo tutti erano però rivolte a colpire un uomo in virtù della donna che frequentava. La figura della donna nell'antica Grecia è un po' diversa da come viene raccontata, perché è vero che la donna era fuori dai dibattiti politici e non aveva il voto, eccetera, però era molto presente. Lo era presente in tutte le scene che noi vediamo raffigurate dentro il museo. È possibile ipotizzare che agisse dietro le quinte e che dietro un grande eroe ci fosse sempre una grande donna che invece decideva per lui? Probabilmente, penso per esempio. Raffigurare Atena, la dea per Antonomasia, che nasce dal cervello, dalla mente di Giove, ha un valore non solo simbolico, ma c'è un riconoscimento alla donna che ha una ragione. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. È stato allestito nella piazza San Francesco, il presepe realizzato dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile e del gruppo archeologici Triskelion. Il presepe, che è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana, potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo. Gli alunni della scuola Luigi Capuana di Gela, diretta da Concetta Mongelli, hanno tenuto uno spettacolo natalizio presso la chiesa di Sant'Antonio. Siamo andati a vedere. L'incanto della voce bianca dei bambini, canti natalizi e un clima di feste e condivisione. È accaduta alla chiesa Sant'Antonio a Gela in occasione del concerto tenuto dagli scolari della Luigi Capuana, diretta da Concetta Mongelli. Lavoro in continuità, anche continuità didattica, verticale, ma anche in continuità orizzontale. La parrocchia è un'agenzia educativa che lavora insieme alla scuola. È il quale momento migliore per lavorare insieme, e quindi nei locali della parrocchia, insieme al parroco Michele Mattina. Questa sera i bambini di classe quinta passano il testimone ai bimbi piccini di 5 anni e stanno lavorando insieme in coreografie anche parecchio complicate e molto stimolanti per conoscersi, perché i grandi possano anche aiutare i piccoli nei movimenti, in tutto ciò che ne devono dire, ma anche perché i piccoli possano conoscere direttamente con delle attività pratiche e i futuri docenti delle classi prime. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal Comune di Gela. Fino al 6 gennaio, nei locali di Palazzo Ducale, mostra dei presepi Vita di Gesù, di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi, albero della vita nel piazzale della Chiesa di San Rocco, a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio, nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Seconda mostra dei presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali e promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. Potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio. Previsti intrattenimento e degustazioni, l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana, a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continuano gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cavarei 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo dovranno recarsi presso la chiesa Sant'Agostino per potersi registrare, lo hanno comunicato i padri agostiniani. E infine c'è l'informazione cinematografica al Cineteatrale Antidoto e in proiezione il nuovo film Babbo Natale non viene da Nord. Questi sono gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30. Lunedì 28 dicembre alle 21.00 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabrisco la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri. La regia è affidata a Giancarlo Bella. Bene, era tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.